Il candidato a sindaco del PD a Ragusa, Giuseppe Calabresa, ha incontrato i vertici di territorio per sancirare l'alleanza del Movimento con i democratici a sostegno della sua candidatura. Sono state infatti condivise le linee programmatiche con i suggerimenti di territorio che saranno inseriti all'interno dei 13 punti che costituiscono la bozza di programma. Territorio ha anche avuto modo di sottolineare in maniera positiva il fatto che il PD abbia individuato il proprio candidato, mettendolo a disposizione per le primarie di coalizione allo scopo di cercare la sintesi. Il Movimento ragusano non avrà pertanto un proprio candidato e per tale motivo durante l'incontro è stato dichiarato ufficialmente il sostegno a Calabrese, il quale ha promosso il primo incontro programmatico per domani, gioventiva 1 dicembre, ore 18.30, presso il saloncino della CNA. Sarà l'occasione utile, ha spiegato lo stesso Calabrese, per presentare alla città, alle forze sociali e produttive e alle varie associazioni cittadine, la prima bozza di programma con i punti cardine fondamentali per il governo della città. Grazie. 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 Grazie.